Buonasera a tutti e a tutte, allora vediamo un po' l'andamento generale che avrà aprile, che è già cominciato, ma tanto è appena cominciato insomma, e vediamo insomma che cosa possiamo cercare di prevedere o cercare di esaminare un attimo come situazione del mese in generale, vorrei fare una piccola considerazione sul fatto che, specialmente noi del cancro, tutti i cancri sanno a cosa mi sto riferendo, è veramente dura, è veramente dura sotto certi aspetti, però sotto certi aspetti penso che molti di voi come me sentiranno quanto è fondamentale questa parte della nostra vita, per quanto sia praticamente dura e Colombo non vede terra, non vede terra proprio per niente, sappiamo anche che ha un viaggio molto importante, anche Colombo quando è partito, è partito sulla base di un sogno e non sapeva che cosa avrebbe trovato, non lo sappiamo mai cosa c'è al di là, a volte partiamo con le migliori intenzioni e niente e altre volte invece pensiamo di non trovare niente e troviamo tutto, quindi la vita è molto particolare e quindi non stiamo vedendo terra, però ci crediamo secondo me, chi per un motivo o chi per l'altro ed è giusto così perché se non si crede in qualcosa non si avrà mai nulla. Questo è un discorso che faccio ai cancro per sostenerci tutti in questo durissimo viaggio, però in generale è un discorso che posso applicare un po' a tutti i segni, quando guardate l'oroscopo cercate di non ragionare tipo oddio spero che aprile finisca il primo possibile, oddio spero che il 2019 finisca il primo possibile, avete mai visto quel film che si chiama Cambia la tua vita con un click dove c'è il protagonista che si lamenta di qualunque genere di cosa, della codea in macchina, se litiga con qualcuno e tutte le volte per superare questo fastidio che ha, schippa e va oltre, come direbbe sempre Caparezza, mia citazione per l'antodomasia. In realtà no, in realtà ragazzi fa parte della vita, mi raccomando, aprile fa parte della vita, cercate di capire che cosa c'è ad aprile ed importante, di dare luce a ciò che aprile vuole insegnarvi o che cosa vi vuole portare o come vuole spingervi in avanti, a volte anche attraverso la sofferenza o la delusione o il disincanto. Quindi mi raccomando, non buttate via questa foto anche se verrà sviadita, mi raccomando, di questo mese, ma ricordatevi che siete vivi e bisogna veramente festeggiare e approfittare di questo, in tutti i sensi possibili e inimmaginabili. Andiamo a vedere segno per segno, come al solito cercherò di mettervi la lista, così qua sotto potete saltare gli altri segni che non vi interessano. Ecco, come al solito partiamo da ariete, auguri, auguri a tutti gli ariete, questo è il mese del vostro compleanno, quindi auguri, tra l'altro mi viene in mente, Arnella, tu quando è che compi gli anni? Io mi dimentico di tutti i compleanni delle persone, non ci rimanete male, però mi ricordo il vostro segno zodiacale, quindi c'è anche Paola che è dell'ariete e c'è qualcun altro, adesso non mi ricordo. Allora, ariete, allora ariete direi, innanzitutto cerca di non lamentarti perché questo è un mese buono, qui abbiamo un bell'arcobaleno e l'arcobaleno porta fortuna, porta abbondanza, ha questa energia gentile, no? Avete presente come vi sentite quando vedete un arcobaleno? Ha questa energia così graziosa, così delicata, che ariete di solito sfonda i muri con le sue cornate. L'arcobaleno viene dopo la tempesta, quindi qualche tempesta potreste averla superata di recente e infatti non so perché associo sempre l'arcobaleno all'odore della pioggia, non proprio la mia associazione mentale. È stata dura, però bisogna godersi questo momento, bisogna godersi l'arcobaleno perché ne vale la pena, no? Quindi le cose vanno a migliorare. Le vibrazioni, secondo me, si alzano in questo mese di aprile. Ci sono dei problemi per alcuni di voi con l'intorno, ci sono delle chiacchiere o delle persone che vi danno fastidio. In generale le persone si lamentano tutti degli altri. E citiamo sempre Caparezza quando dice che tutti si lamentano della gente come se non ne facessero parte e ci estromettiamo, no? Quindi tutti quanti stanno sempre a lamentarsi degli altri. In questo caso tu non hai ben d'onde, cioè di solito un po' sono chiacchiere a bambra, invece tu sicuramente hai delle situazioni intorno, delle persone che ti sono un po' ostili, ti sono contro, ti giudicano. Si tira un po' nei coglioni, diciamo proprio in italiano. E questa cosa purtroppo c'è. Come fai? Come fai a cambiare il mondo tu da solo? Io ti direi che queste carte, anche in amore, anche in amore c'è un po' il messaggio che se fai da te fai per tre. Il secondo mese te la devi mettere via, sta cosa. Questo mese fai da te che fai per tre, prendi in mano tu la situazione anche dal punto di vista della relazione sentimentale, e questo cosa vuol dire? Che fai il controllo degli altri, mi raccomando, no, è tremendo, ma che devi essere responsabile di ciò che fai. Cioè prenditi le tue responsabilità, dei tuoi gesti, delle tue mosse, le tue e solo le tue, non quelle degli altri. Questo andrà, basterà, sarà sufficiente, perché sarà sufficiente a far andare avanti le cose tranquille. Agli altri lascia che provveda Gesù, Dio e se stessi, o quello che per loro, tuffa il tuo. Soprattutto a livello lavorativo, non rimanere chiusa o chiuso nelle tue idee passate, nei vecchi schemi. Considera, cioè non irrigidirti, se ci sono nuove opportunità, nuove opzioni, cerca di valutare se magari, non fare come quei vecchietti, no, erano meglio le lire, era meglio quando stavamo peggio. Ormai è andata, cioè vai avanti, vedi le nuove opzioni e cerca di valutarle. Del passato, quel che di buono puoi raccogliere sono gli sforzi che hai fatto, perché teoricamente questo mese sul lavoro dovrebbero riconoscerti. Dovresti riscuotere un po' tipo gli interessi di ciò che sei stato o che hai fatto in passato. E se non le riscuoterai per un riconoscimento pubblico, sarà comunque l'esperienza che hai maturato durante la difficoltà, che ti verrà in aiuto questo mese. Quindi, io sapete che cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, anche semplicemente per il fatto che noi siamo quello che pensiamo. Quindi se pensiamo bene e se vediamo la parte mezza piena della cosa, attiriamo abbondanza. Perciò non mi vedrete mai fare previsioni catastrofiche, perché io cerco sempre di trovare la luce e la strada verso l'uscita. Se sei chiuso in una galleria, a me sinceramente viene voglia di uscire. Poi c'è chi ama starci dentro, arredatevela. In quel caso arredatevi la galleria, come direbbe qualcuno. Però io cerco sempre la luce per uscire dal tunnel. Ci seguiamo con la luce, anche se tutto è buio, c'è una luce che ci conduce fuori, perché altrimenti non ce la possiamo fare. Allora, comunque è un mese che mi viene confermato che è un mese di abbondanza, di opportunità, di prosperità. Anche troppe cose, potrebbero arrivare anche troppe cose tutte in una volta, che potrebbero confonderti. Quindi moderati, non esagerare, e fai delle scelte, si selettiva in ciò che ti ha dati delle priorità, vedi che cosa ti piace veramente, vedi che cosa ti interessa, comunque un mese di crescita lenta, sicura, cioè gli interessi possono essere al 2%, ti sembra poco, però di solito al 12% ti stanno fregando. Quindi piano, chi fa piano va stando e va lontano, non riuscirai ad avere tutto quello che vuoi, neanche vagamente o neanche lontanamente, però diciamo che raccoglierai nel tempo quello che vuoi, non tutto in una volta. Cioè se desideravi diventare milionario, ecco, c'è una tranche molto piccola, però andrai ad accumulo, ecco, non ci sarà un botto. Non essere impaziente, non volere tutto e subito, perché è la volta che rovini tutto. Le ariete non ce la possono fare su questo aspetto, diciamoci la verità, perché voi quando volete una cosa, la volete e basta. Invece diciamo che questo mese dovete avere pazienza. In realtà chi è sulla strada degli ariete è da quando è nato, che cerca di fare questo lavoro. Ti tiro fuori, cornella nel senso se è una maestra quasi zen dal punto di vista che quando vuoi qualcosa è vero che rimane in ariete, ma vedo che le persone diciamo che seguono un po' le itero occhio, che fanno un certo lavoro su di tagliariete, sono sempre molto concentrati a cercare di darsi una calmata, a cercare di darsi un freno. E qui non agire in maniera impulsiva, perché altrimenti rischi di mettere a repentaglio ciò che stai costruendo. E poi anche il messaggio, il tuo consiglio è persevera, non scoraggiarti dalla spina in mezzo alla rosa. Quindi appunto non buttarti giù, perché è una gara di resistenza anche nel tuo caso questo mese, per cui è certo che qualcosa andrà male, poi c'è un sacco di gente che ti rompe i coglioni qua intorno, con questa bellissima carta della morale, che proprio, lo so, vorresti fare come Michael Douglas in, come si chiama quel film? Quello dove lui uscendo dalla macchina vuole ammazzare tutti, un giorno di ordinare a follia? Lo so, vorresti fare questa cosa, ovviamente non si può, cioè puoi farlo, assolutamente no, quindi facciamoci una ragione, non ti buttare giù, non ti buttare giù perché non c'è motivo, no? La vita ti porta cose buone, ma anche quelle che con una mano ti toglie, ma con l'altra ti dà. Concentriamoci su ciò che arriva e non su ciò che va. Allora, Toro, Amici Torelli, allora, Amici Torelli, qui c'è un po' di difficoltà, non vi vedo propriamente splendissima forma, anzi, anche, auguri anche ai toro di fine aprile, e... non passerete un compleanno strepitoso, diciamo che va peggio dell'ariete in questo caso. Allora, qui mi segnala che forse, comunque, è un periodo un po' pesante, o lo è stato di recente, però questo mese torni a respirare, come se hai passato un po' di tempo con la testa sott'acqua, senza ossigeno, in totale difficoltà, e cominci a respirare. Respirare aiuta a calmarsi, evidentemente, c'è qualcuno che ti ha fatto innervosire, o una situazione che ti ha fatto incazzare, o preoccupare, e che ti ha fatto dimenticare, respira, sei vivo, sei qui, perché proprio ti ha appesantito tantissimo, no? Anzi, c'è anche proprio il consiglio di trascorrere un po' di tempo all'aria aperta. Allora, dal punto di vista dell'amore, non va bene. Cioè, probabilmente è l'aspetto che va peggio, nel senso che o sei in una coppia dove l'altra persona ti fa dei ricatti emotivi, tipo, se non fai questo ti lascio, se non stai così ti lascio, magari non è che te lo dica apertamente, no? Però te lo fa capire, che in qualche modo ti minaccia, che in qualche modo ti sottomette, che in qualche modo ti ciuccia tutte le energie. Ti sta succhiando tutto il succhiabile, la persona con cui stai, o, per alcuni di voi potreste essere voi a farlo, cioè, perché a volte le carte sono bifrontale, quindi, fatevi voi un esame di coscienza, se non ve ne rendete conto che lo state facendo, o se ve lo stanno facendo a voi. Però, secondo me potreste essere voi, perché comunque vedo che avete proprio bisogno di cambiare aria, di aprire la finestra, perché non ce la fate più, e di respirare. Probabilmente, il vero amore scarseggia, cioè, questa relazione che avete, in questo momento, per voi non è nutriente, vi affama, vi toglie, invece che di darvi qualcosa. però, questa è aprile, è aprile, quindi, io fossi in voi, sapete che faccio, prendere un attimo le distanze, da qualunque genere di relazione che ho, per concentrarmi sul lavoro, che invece mi dice, che se ti sforzi, e che se sarai determinata, o se sarai determinato, le cose andranno bene, impegnati e fai ciò che devi fare, ho capito che la vita sentimentale, mi pare che ti abbia prosciugato, di tutte le tue energie, allora, ci prosciugano di energie, però ci facciamo anche prosciugare, ragazzi miei, perciò prendiamo un attimo a mano la situazione, sul lavoro, devi concentrarti, devi fare, l'ordinaria, almeno l'ordinaria amministrazione, per alcuni, per alcuni, questo mese, è addirittura ad arrivo un rapporto, un rapporto sentimentale, o un rapporto lavorativo, mi viene da dire di più sentimentale, per alcuni, anzi, per quasi tutti, a un mese di ritiro, tipo convento, perché non ce la fate più, tra l'altro mi torna, perché conosco un toro, ce ne conosco tanti, però di recente, ne vedo uno in particolare, che sembra proprio che sia stato vampirizzato, ce l'ho notato proprio chiaramente, sembra invecchiato di dieci anni, diciamo, quindi qualcuno di voi sta proprio male, qualcuno di voi è ammalato anche, c'è qualcuno che sta male, proprio fisicamente, c'è qualche malattia, o di origine anche nevrotica, tipo ansiosa, insomma, quasi tutti i toro, di cui sto leggendo, hanno bisogno di stare da soli, hanno bisogno di mettersi da parte, perché avete pochissime energie, se dovete lavorare, le dovete dedicare al lavoro, avreste bisogno di una vacanza ai tropici, ma in quei posti dove non vi alzate neanche, cioè bevete da un cocco, e non vi muovete da lì, e quindi le carte vi consigliano ritirati, ritirati in un posto verde dove puoi respirare, in un posto dove stai meglio, hai bisogno di ricaricarti come la batteria del cellulare, quando il cellulare si è spento, perché la batteria è 0%, questa cosa non ti dà neanche la capacità di decidere, perché tu in realtà dovresti cambiare, è chiaro che sei in una situazione che ti ha spompato, però senza energie non si può cambiare, e senza energie sei anche confusi, quindi probabilmente non sai neanche veramente qual è il problema fino in fondo, o cosa devi cambiare, o come devi fare, per cui prima di tutto tira il fiato, stop, tira il freno d'emergenza, scendi dai binari, metti da parte qualunque genere di problemi, non è il mese in cui devi risolvere il problema, perché stai troppo male, è il mese in cui tu devi mettere da parte il problema, e occuparti di come stai, quindi per farlo cosa ti viene detto, dà almeno tre carte, di stare in mezzo alla natura, di allontanarti dalla fonte che ti causa tutto questo risucchio energetico, di scegliere nuove strade, ma non scegliere adesso, cioè avvicinati con circospezione, a nuove prospettive, e sentiti libero o libera di seguire il tuo istinto, perché in questo momento, molti magari non ti capiranno, per le scelte che farai, però ragazzi è così, cioè a volte, a volte per sopravvivere dobbiamo fare delle brutte scelte, a volte è necessario, non mi piace dirlo perché i toro in genere è un segno molto egoista, però in questo caso dovrete essere egoisti, quindi tirar fuori questo lato, anche se agli altri non piacerà, è farvi un po' i fatti vostri, seguire i vostri impulsi, questo è quello che mi dicono le carte, cioè non si può essere sempre zen, non nascondiamoci dietro un dito, a volte è necessario anche occuparsi solo di sé, e mandare a cagare il resto del mondo, anche se il resto del mondo sta male, se tu non stai bene non puoi aiutare nessuno, d'altra parte, sentiti libero di essere egoista, o sentiti liberi di essere egoista, e perché hai bisogno di curarti, proprio psicologicamente e fisicamente, e ritrovare un po' di benessere, spero di no, spero che siano sbagliate, magari qualcuno mi dirà, ma no sto benissimo, ho una vita fichissima, mi sento benissimo, però un po' tutta la carta mi rimanda a questo, mi rimanda alla necessità, di recuperare una stanchezza energetica allucinante, che dalle carte deriva soprattutto, dalla situazione sentimentale, gemellini, allora gemellini, sapete che io non vado mai per, non parlo mai per giudicare, però quello che vedo, allora, mi verrebbe voglia di, cioè mi verrebbe da dire, allora, c'è qualcuno di voi, diciamolo, senza colpo e ferire, che, sta tradendo la persona con cui sta, se non sta tradendo, si è messo con qualcuno, che fa l'amante, ecco, diciamo che fa l'amante, anche perché, effettivamente, è primavera, svegliatevi bambine, qua, sicuramente, c'è una relazione sessuale, insomma, di qualche genere, che sta ferendo qualcun altro, o comunque, avete avuto, o avrete, no avrete, perché qua siamo a aprile, dei comportamenti un pochino scorretti, con qualcuno, ma purtroppo, ragazzi, a volte, i santi, io non li ho mai visti, anche io se ero stata scorretta, con qualcuno, spesse volte, non consapevolmente, o spesse volte, boh, non lo so, però mi sarà capitato, cioè, non sarò mica una santa, neanche io, e in questo caso, qua dice, aprile è un mese un po' debole, da questo punto di vista, perché vi capiterà, una circostanza, per cui, o più di una, in cui non sarete esattamente, le persone migliori, di questo pianeta, ok? Può succedere, anzi, è un'ottima cosa, quando succede, perché quando, noi sbagliamo, e lo riconosciamo, poi dopo siamo un pochino, più comprensivi, con gli errori degli altri, per cui, va bene, dai, è una fase, potrebbe essere, che appunto, o, ingannerai qualcuno, o farai un po' il furbo, o tradirai la persona, con cui stai, o comunque, farai finta, che tutto va bene, e, cioè, non ti prenderai, insomma, le responsabilità, di ciò che fai, oppure, ometterai, cioè, devi fare qualcosa, per qualcuno, e farei finta, di non ricordarti, lo farei finta, di non farlo, farai un po' il furbo, in qualche modo, cioè, non farei un'azione, esattamente corretta, e la pagherai, purtroppo, la pagherai, perché, e c'è pure la carta, del senso di colpa, che mi dice, che insomma, appunto, appunto, non la prenderai bene, tu stesso, non la prenderai bene, la cosa più corretta della vita, può succedere, niente di che, può succedere, perché è successo, innanzitutto, c'è molta energia mentale, ma tu sei un segno, appunto, di aria, quindi, e quindi, tendi, involontariamente, questo capita spesso al gemelli, non è esattamente un mostro di empatia, diciamoci la verità, perché siete un segno mentale, cioè, c'è poco da fuori, siete un segno che ha tantissimi pregi, che ha la creatività, l'intelligenza, il dinamismo, il saperersi reinventare, un certo fascino, un certo, il mio primo fidanzato era gemelli, un certo, a chiappo ce l'avete, però a volte, avete questa cosa, in alcune circostanze, in cui, anche persone generosissime, cadete sui, sulla buccia di banana, questo è il mese, in cui cadrete, su una buccia di banana, perché siete attratti sessualmente, perché avete dei vostri interessi, e non vedrete quelli degli altri, però, quando ve ne accorgerete, perché ve ne accorgerete, vi sentirete in colpa, per cui, qua vi dice, vi dà alcuni consigli, che adesso io vi ripropongo, cerca di essere etico, o etica, questo mese, abbi cura, delle persone, che hai intorno, potresti fissarti, su cose molto piccole, questo soprattutto, al lavoro, cerca di, non saltare per aria, a ogni inezia, di moderarti, di dialogare, anche tu, di fare quello, che sto cercando di fare io, di mettere il lato, luminoso, della situazione, sul tavolo, non guardare sempre, quello che non va, perché non fa bene a nessuno, soprattutto a te, a questo mese, sarà un mese un po' pesante, sessualmente, alla grande, cioè, nel punto di vista dell'amore, sarà un mese degli amanti, degli amanti, dei gemelli, che sono degli amanti, attenzione, però, perché, è un gioco un po' pericoloso, mi viene detto, questo mese, insomma, ci sarà, che non sarà condotto, proprio al massimo, nei massimi, insomma, comunque, vabbè, il consiglio è, ti mettono in guardia, proprio la messa in guardia, avanza con prudenza, perché possono esserci pericoli, nella foresta, l'oracolo è quello della foresta, avanza con prudenza, perché qualunque cosa, tu stia facendo, cadrai, su una buccia di banana, quindi, l'avvertimento, ti è stato dato, bacio, allora, cancretti miei, cancerini e cancerine, streniamoci in un abbraccio, vogliamoci bene, venite qua, venite dalla macchina, teniamoci caldo, tra di noi, perché, allora, non è poi così tragica la cosa, non è tragica, solamente che veniamo da mesi molto pesanti, e andiamo verso mesi altrettanto pesanti, però, allora, qui, mi dice, è come l'eruzione di un vulcano, potete fermare l'eruzione di un vulcano, potete fare qualcosa, c'è qualcuno che mette, esiste tipo, che ne so, un proteggi case, che se ti erutta il vulcano, sopra casa tua, non lo demoliti, no, cioè, Pompei e Del Colano, ecco, i risultati di un'eruzione volcanica, questo è aprile, questo è aprile per noi, non possiamo fare nulla, non è che puoi aprire un ombrello, cioè, puoi chiuderti in casa, no, perché se c'è un vulcano che ti erutta sotto il culo, non puoi fare proprio nulla, quindi, l'energia è questa, l'energia è questa anche dentro di te, quindi, attenzione a quelli che vanno intorno ai cancro questo mese, è molto pericoloso spingere i tasti sbagliati, è molto pericoloso dire la cosa sbagliata, è molto pericoloso non comportarsi bene, perché di solito il cancro, però non è colpa del cancro in sé, perché dopo vedremo che comunque c'è sempre quel nastolato ricettivo, emotivo, però siamo messi a dura prova dalla vita, quindi non ci mettete a dura prova anche tutti quelli che ci stanno intorno, perché non è un buon momento, come direbbe la mia migliore amica, non si deve scegliere il momento sbagliato, esattamente, quindi saremmo molto capricciosi, saremmo anche molto appassionati, perché il vulcano è fuoco puro, quindi che si vuole divertire, andare vicino a un vulcano, insomma, è anche un momento di divertimento, però qual è il lato buono dell'energia del vulcano? Il vulcano forma nuova terra, la lava quando si raffredda, mi pare di sapere, però non vorrei dire una cavolata, che i terreni che sono stati, sono più fertili dopo, cioè c'è qualcosa, quindi il problema è che quando erutta senza preavviso, il vulcano è se è una fottuta cacca, invece noi lo sappiamo, insomma, noi possiamo un po' prevenire, quindi il nostro mondo si sta rimodellando, come quando si rimodella un territorio dopo l'eruzione di un vulcano, ma non possiamo controllare noi questi cambiamenti, e non possiamo dirigerli, metterete in discussione tutto, tutto e ancora tutto, e ancora tutto, amicizia di una vita, rapporti di una vita, considerazioni di una vita, vostri modi di vedere la vita di una vita, la vostra vita, quindi non puoi aggrapparti al passato, tanto non te lo permetteranno comunque, quindi rassegnati già, prima di cominciare a cercare di conservare qualcosa, se se ne sta andando, vai avanti e segui il cambiamento, prega, respira, affidati a Gesù, o non so a chi per lui, non puoi fare nulla, accetta quello che viene, e accetta te stesso, questa è la prima cosa, qui abbiamo questa donna nuda, che guarda una stella, e puoi anche esprimere qualche desiderio, non è rimasto niente, secondo me è questa carta dell'esistenza, vuol dire che non ti è rimasto nulla, manco i vestiti, guardiamo le stelle in cielo, e godiamo, c'è rimasta la nostra interiorità, questo sì, siamo un po' agitati, ma siamo ancora carichi di sentimento, e carichi di speranze, e carichi di sogni, perché quando mai il cancro, ragazzi miei, si arrende, è una cosa incredibile, l'energia dell'amore, l'energia dell'amore, cioè sei inarrestabile, se tu hai un'idea in testa, questo mese, ma non te la tolgono manco, con le bombe a mano, la dinamite, cioè tu sei lì avanti, come sto crociato, chi li fermava i crociati, con sto spada guainata, disposta anche a morire, o a morire per ciò, in cui tu hai deciso una cosa, ed è quella, potresti risultare un po' aggressiva, cosa che di solito il cancro non risulta mai, però questo mese sì, però abbiamo detto, che è questa energia appunto di passionale, passionale, capricciosa, anche così, quindi, sarai convinta, o sarai convinto, e andrai avanti per la tua, perché secondo te, è una buona idea, è una buona causa, il lavoro, il lavoro anche qui, datti una regolata, io ho deciso, mi faccio, sparatemi, questo mese io mi, sparatemi, sarà un mese esplosivo, anche per il lavoro, vedi di fare due cose, anzi tre, non dare troppa importanza, ai disguidi, cerca, di comportarti, nella maniera giusta, e di cambiare le abitudini negative, se puoi, canalizza questa energia, di questo mese esplosivo, senza ammazzarti, con le persone con cui lavori, abbiamo dei viaggi, questo mi torna, perché io metà mese, vado a vedere Tommaso Paradiso, grazie, 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 qua c'è la standing ovation, di questa cosa, quindi, per qualcuno, ci saranno viaggi, avventure, cambi di dirotta, cambi di direzione, scegli che cavolo vuoi fare, da che parte andare, vacci, fine, cioè, scegli la direzione, cioè, l'eruzione vulcanica, scegli da che parte del vulcano scendere, scegli tu, spostati comunque, ci devi spostare, metaforicamente, e proprio, praticamente, quindi, e poi cosa, non ti dimenticare, che rimani una delle persone, più sensibili, sul pianeta Terra, e questo, con tutti i risvolti negativi, perché non è che, sapete cosa diceva sempre, io lo dico, questa l'avrò detta mille volte, ma ve la ripeto, cosa diceva Oscar Wilde, delle persone sensibili, che sono quelle, che hanno i calli, e camminano sui piedi altrui, per non sentirli, perché purtroppo, insomma, la sensibilità, ha tanti risvolti non belli, quindi, rimani sempre una persona, disponibile ad aiutare gli altri, anche in queste circostanze, dove veramente, non ce ne abbiamo, siamo sempre lì, in prima fila, perché siamo sempre connessi, con la nostra empatia, col mondo, con i sentimenti del mondo, siamo sempre, rimaniamo comunque, introspettivi, rimaniamo comunque sensibili, nonostante tutto sto casino, capaci di vedere al di là, tra le righe, al di là di quello che succede, però come vedete qua, questa regina di coppa, sta sotto la burrasca, pure lei sta sotto la pioggia, è una regina senza corona, senza scettro, senza trono, la sua coppa è per terra, e la sta riempiendo la pioggia, mi piace questa immagine, il nostro amore, lo sta riempendo l'ambiente, verrà riempito, da qualcosa che adesso, non ci sembra bello, secondo me, quindi, però ci facciamo proprio, trasportare dal mondo, va bene così, va bene così, segui i tuoi sogni, segui quello che senti, anche quando veramente, tipo sto mese, è la follia, proprio, dobbiamo chiamarla la follia, il consiglio del bosco, l'oracolo della foresta, è, emergete dal vostro bozzolo, con bellezza e grazia, quindi, camminate in punto di piedi sui vetri, con molta veggio adria, in bocca al lupo, se sopravviviamo, ci sentiamo a maggio, e c'è peggio, adesso a maggio sarà le catombe, allora, cari leoncini, cari leoncini e cari leoncine, allora, ottimo, cioè qui, fossi in voi, io mi sento, mi sentirei al 100% soddisfatta, perché? Che cos'ha questo rumore? Allora, cambia il vento, c'è una canzone che dice, cambia il vento, ma non cambierà, boh, cambia il vento, ah, cambia il vento, ma noi no, no, cambia il vento, e, e questa è una buona cosa, perché il vento è un'energia molto di pulizia, no? Cioè, quando passa il vento, cioè, puzza di meno l'aria, cioè, puzza di meno la città, puzza, buttavi lo smog, quindi non ci sarà più questa stagnazione, cambia via, ti sentirai più vivo, ti sentirai con la pelle più sensibile a quello che succede, ti sentirai più pulito, più stimolato, più, attenzione, perché poi il vento agita, c'è una mia parente anziana, che aveva questo terrore, ogni giorno era a fermo a letto, mi chiedeva, ma oggi c'è il vento, che io dicevo, cazzo, te ne frega, non esci di casa, però lei voleva sapere, perché c'è questo terrore, perché lei poi era fissata con i suoi capelli, e c'è questo trauma, che si spettinava il vento, però il vento a volte può anche agitare, La gente spesso pensa che sia il mare che agiti, ma in realtà perché nelle coste, spesso, soprattutto all'oceano, secondo me, è perché c'è vento, quindi il vento stimola, e questo mese devi impegnarti in qualche attività, su di te il vento, questa energia del vento ha un effetto purificante, perché le cose si muovono, e vai verso l'essere sempre più te stesso, o te stessa, accettando di più le cose, e accettando di più, sì, le cose soprattutto, accettando di più la realtà, ti dico di questo, perché qua abbiamo il maestro, quindi abbiamo il caro maestro Osho, io non so mai come interpretarla a sta carta, se non con una saggezza, con un'intuizione saggia, che è al di sopra, di solito, della realtà, di quello che sarebbe di solito, quindi quel guiccia, quella, quella essere sempre pertinente, per quanto riguarda i sentimenti, abbiamo qualcosa che, abbiamo quel lato del leone, che esiste sempre, però il leone nasconde, che sarà più incline, invece che al combattimento, o al difendere, al guidare, sarà più, più quel lato leale, quel lato generoso, qui abbiamo San Francesco, che parla con gli animali, probabilmente molti di voi, appunto, chi è in coppia, si sentirà più propenso, alla comprensione, alla generosità, all'ascolto, in un certo senso, alla connessione, proprio, ti sentirai più responsabile, verso il mondo, cioè, sarà il mese, in cui capisci, che non è il mondo, qui per soddisfare te, ma quando ami, sei tu, che devi soddisfare gli altri, sarà un'energia, di dare, di dare, di creare, San Francesco, da tutto quello che c'ha, perché capisce, che la cosa più importante, è, è la connessione, cioè, la connessione, mistica, diciamo, la connessione sentimentale, quindi, non tiene niente, per sé, questa è una cosa importante, ecco, questo, questo atteggiamento, ti farà stare meglio, cioè, in primo luogo, farà stare meglio te, troverai lì, lì trova la sua pace, nel dare, senza chiedere niente, come quando appunto, lui lo fa, secondo me, l'emblema degli animali, è questo, perché anche gli animali, ti prendi cura di loro, e in cambio, poi, hai il loro, incondizionato amore, quindi, questo sarà un mese di svolta, sotto questo punto di vista, per molti, che, cambieranno, la freccia, da sinistra a destra, se stavano andando, nella direzione, di cercare qualcosa, per se stessi, capiranno, che la risposta, è cercare di dare qualcosa, agli altri, e poi, sono favorita appunto, anche sul lavoro, appunto, le comunicazioni, cioè, proprio, siete molto ben predisposti, nel mediare, nel capire, nell'ascoltare, nell'imparare, nel mettervi in gioco, nell'offrire, quindi, c'è proprio un'energia, secondo me, se, se riuscirai, penso di sì, perché è l'energia del maestro, se riuscirai ad essere illuminato, quindi, non farti schiacciare da cose inutili, tipo, pettegolezze altrui, giudizi, critiche sul lavoro, persone che hai intorno, e ti criticano, non ti sostengono, nella tua capacità, di fare le cose, in realtà, lo puoi fare, perché è l'energia del maestro, ti concentra, proprio, sul lavorare, meglio che puoi, sull'imparare di più, sul migliorare, la qualità della tua vita, puoi farlo solo tu, cioè, questa lettura, è molto, le cose ce le hai, nelle tue mani, il vento è favorevole, ti purificherà, però poi, e tra l'altro qua, abbiamo anche il coso qui, il trifoglio, il coso, che è una carta di felicità, di opportunità, di botte di culo, di belle coincidenze, quindi, di opportunità che vanno, sfruttate, no? Senza stare troppo a pensarci, a ragionare, a farsi 50.000 più più mentali, cioè, il mondo è della tua parte, l'energia è buona, il vento cambia, ed è favorevole a te, buono, molto, molto buono, e, cioè, non è che devi fare più di tanto, se non assecondare tutto ciò, dal punto di vista del cervello, a parte che qua vedo degli uccelli, da tutte le parti, c'è anche questo reddispade, c'è tutti, questi uccelli qua sopra, e San Francesco, cioè, non lo so, molti di voi saranno degli ornitologi, non lo so, più che altro, magari la socia al vento, ventoli, aprire le ali, volare, o cioè, associamo, associamo questa cosa, un'energia di aria, quindi anche di intelligenza, no? Le spade, reddelle spade, abbiamo un'energia anche di aria, quindi, lucidi, lucidi mentalmente, quando prendete delle decisioni, che abbiano un senso, lo farete con senso, scegliendo delle cose, che sono tattiche, intelligenti, quindi, scaltre, astute, avrai anche un certo distacco emotivo, ma, per prendere decisioni giuste, distacco emotivo anche da te stesso, oltre che dall'altra persona, quindi, riconoscerai alcuni tuoi comportamenti, che vanno corretti, in primo luogo, e riconoscerai qual è la mossa giusta da fare, il consiglio della foresta, è resilienza, state forti, di fronte alle prove della vita, come una foresta, che resiste a una tempesta, la foresta manco resiste, nel senso, la foresta sta all'impiedi, e sa che la tempesta passerà, sa che è naturale, che ci sono delle tempeste, non le può controllare, ma semplicemente, è già nata, per sopportare, noi siamo nati, con tutti i mezzi necessari, a superare gli eventi della vita, che ci capitano, poi siamo così creativi, noi esseri umani, da inventare, da inventare sempre nuove malattie, sempre nuove problematiche, sempre nuove, però in realtà no, non nel tuo caso, nel tuo caso tu, devi essere alla foresta, sotto la tempesta, zen, mese zen, dove tutto però sarà molto bello, la vita da tua parte, l'energia anche, e colpi di culo pure, quindi perfetto, allora qui abbiamo la vergine, allora la vergine, allora non è un mese, proprio il top del top del top, ok, partiamo da questo presupposto, allora, io qui farei, attingerei, alle doti, di pazienza, qui abbiamo una cascata, allora la cascata, è un'energia, sempre affascinante, perché le cascate sono affascinanti, ed è un'energia senza sforzo, perché l'acqua cade, non è che si deve sforzare, è molto potente, non so se siete mandate, alla cascata delle marmore, è un'energia da cui traggono l'energia elettrica, per cui, quindi per cui, non è che devono fare niente di particolare, perché l'acqua cade da sola, è per forza di gravità, quindi, tu vergine caro o cara, si calma e paziente, perché tanto l'energia ti fluirà, gentile e naturale, e goccia dopo goccia, lascerai tracce del tuo passaggio, senza dover fare niente di particolare, non ti sforzare, quindi, non ti stressare, stai lì a pensare a qualcosa che è successo, c'è molta energia di calcolo, cioè stai calcolando, e poi contro questo, quell'altro, è successo questo, soprattutto in amore, ti è successo qualcosa, a cui continui a rimuginare, a pensare, a ragionare, ad esigere, chi vuole troppo, nulla stringe, e poi soprattutto, da queste carte, mi viene chiesto, sei sicura che la cosa che vuoi, è quella poi, che vale la pena di avere, perché in realtà, dalle carte no, per cui è inutile, che stai lì a riflettere, perché i conti, non sono a tuo favore, se continui ad andare in questa direzione, la cascata, segue, la gravità, non è che torna su, si, come si dice, si riavvolge, dal punto di vista, per esempio, lavorativo, per chi ama, veramente, il proprio lavoro, può andare molto bene, perché sarei piena di idee, l'importante, è che ti prenda, delle responsabilità, io mi concentrare, su questa cosa, rispetto a chi sull'amore, questo mese, ve lo dico, anche perché, per qualcuno di voi, questo mese, finisce un rapporto, o è appena finito, e sarà un taglionetto, sarà proprio, la perdita, di qualcosa, che per te, aveva un senso, aveva un significato, e, e penso, che riguardi, la questione sentimentale, perché, la vedo abbastanza bene, il lavoro, lo vedo molto bene, il lavoro, per cui, stai soffrendo, stai soffrendo, anche perché, ma è una sofferenza, molto mentale, hai avuto una disillusione, soprattutto sentimentale, abbiamo anche appunto, un tra di spade, stai soffrendo, un po' di pene d'amore, o senti, senti di aver ricevuto, un'ingiustizia, per la fine di un rapporto, su cui contavi, magari anche un rapporto familiare, o amicale, non per forza, con la fidanzata, l'oracolo della foresta, ti dice di stare attenta, o di stare attento, perché nell'ombra, ci sono dei segreti, ci sono cose che non sai, che hanno, o che determineranno, questo mese, l'andamento della situazione, ma non dipendono da te, dipendono da energie esterne a te, noi ci dimentichiamo sempre, che grazie a Dio, non è tutto nelle nostre mani, ci dispiace, perché vogliamo controllare, l'esistenza, controllare gli altri, però spesse volte, quando una cosa ti va male, il 99% delle volte, sono un fattore esterno, in questo caso, non so, che cosa sia successo, mi dispiace, per tutta questa sofferenza, però, purtroppo, se forse, se dipendesse da noi, non soffriremo mai, quindi, bisogna anche un attimo, e in questo caso, lo rimarca, non c'entri, tu, c'è quel caso nell'ombra, che si nasconde, nella tua vita, e che sta agendo, in questo momento, un po' a tuo sfavore, punta sul lavoro, punta sulle tue idee, punta sul senso di responsabilità, e lasciati scorrere, come la cascata, un bacio, bilancia, 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 non è malissimo, non è malissimo, ok, allora, qua abbiamo della nebbia, la nebbia, non si fa vedere davanti a noi, con chiarezza, quindi qua, abbiamo della confusione, cosa vuol dire, che se siamo confusi, sarebbe meglio, che non decidessimo niente, prima, cioè, a volte, a volte, insomma, anche se, magari qualcosa, non mi viene da dirlo, immagino che, non essere impaziente, e non creare altra confusione, può essere, che tu non abbia, un piano di azione, ben predefinito, cioè, che ti trovi, in una situazione, questo mese, in cui, non sai cosa fare, non sai più cosa fare, da che parte uscire, non vedi l'uscita, potrebbe essere, che alcune relazioni, amorose, che durano, da qualche tempo, da qualche mese, da qualche anno, le devi lasciare andare, cioè, ti devi separare, o invece, potresti lasciare andare, l'idea, che avevi di questa relazione, che ti tiene, incatenato, anche idee piacevoli, no, magari ti sfatto illusioni, tipo, di qualche tipo, avevi tutta un'aspettativa, e le cose sono diverse, lascia andare l'aspettativa, e goditi la realtà, ecco, questo mi verrebbe da dirti, però, in generale, penso che andrai verso il nuovo, comunque, beh, sul lavoro, ci saranno dei cambiamenti veloci, in teoria, ciò che desidererai, dovrebbe realizzarsi, e soprattutto, sono favoriti, i lavori, dove collabori, con altre persone, perché, nel tuo caso, questo mese, c'è un'energia di comunità, cioè, di, tu, che ti unisci, a altre persone, per creare, per rendere il mondo, un posto migliore, per divertirti, o, conoscerai persone, che ti potranno dare una mano, a fare quello che desideri, ti farà stare bene, stare con gli altri, questo mese, ti sentirai ben predisposto, o ben predisposta, a essere gentile, essere comunicativa, a essere conciliante, con gli altri, quindi, nel caso dei maschietti, magari conoscerete, una bella ragazza, sensuale, o come quella dell'ultima carta, che vi corteggerà, o sarete corteggiati, insomma, sì, l'orecola della foresta, ti dice, lascia la presa, malla l'osso, come le stagioni che passano, certe cose, sono immutabili, impara ad accettare, ciò che non puoi cambiare, semplice, questa non la devo spiegare, c'è in tutti i film americani, dove ci sono le comunità, le comunità di disintossicazione, c'è tutta la preghiera iniziale, quindi la conosciamo tutti, lascia andare ciò che non puoi cambiare, accetta ciò che non puoi cambiare, lascia andare ciò che non desideri accettare, bacio, scorpione, scorpione, allora, qui abbiamo Gaia, il nutrimento, allora, una cosa che ti direi in generale sul tuo mese, è che è un mese di ricezione, così come per il leone è un mese dove dovrà dare, per lo scorpione è il mese esattamente opposto, dove dovrai ricevere, quindi devi farti coccolare, nutrire, vezzeggiare, cosa che in realtà lo scorpione piace, perché siete un po' viziati, diciamo, siete un po' viziosi e anche un po' viziati, allora, in realtà sto facendo una battuta, in realtà questo è un mese dove le vostre ferite possono essere guarite, quindi è un mese di guarigione, è un mese di ricezione, è un mese dove vi farete coccolare, nutrire, e potrebbe, in amore potrebbero esserci delle buone novità, qualcuno potrebbe farsi risentire, qualcuno che desideri potrebbe farsi rivedere, se qualcosa in precedenza è andato storto, mantieniti sulle tue, e ascolti a maniera neutrale che cosa questa persona ha da dirti, perché in realtà quello che mi verrebbe da dirti è non fare assolutamente niente, cioè non fare una mossa questo mese di alcun genere, lascia che il mondo venga a te, per darti, per parlarti, per proporti, non muoverti, non cercare di salvare nessuno, soprattutto, lascia perdere, lascia un po' che si arrangino da soli, e non farti coinvolgere dalle cose di cui non sei responsabile, cioè se al lavoro ti dicono, occupati io di questo lo dovrei fare io, no, non aiutare nessuno, cioè te lo proibisco, il dottore ti proibisce, evita di aiutare la gente questo mese, un po' come il toro che ha bisogno di riposare, però perché ha più stress secondo me mentale, più delusioni, nel tuo caso proprio sono ferite profonde, e quindi lasciamo proprio perdere, non fare niente, anche sul lavoro, non fare le cose al posto degli altri, ti sei andato deteriorando, e forse c'hai qualcuno intorno, che poco a poco, in maniera molto invisibile, ti sta danneggiando, e non te ne sta accorgendo, cioè ti giuccia le idee, ti giuccia le energie, ti giuccia tutto, di tutto e di tutto, quindi, credo che sia per quello che la situazione richiede una totale stare fermi, fermi a guarire e difendersi, avrai delle fantasie romantiche, sì, per qualcuno ci potrebbe essere l'idea di una riconciliazione, che devi valutare, però non ci sarà in sé la riconciliazione questo mese, ci saranno qualcuno che torna, qualcuno che vorrebbe, qualcuno che vuole ricucire, forse anche parenti, amici, qualcuno che viene lì, che ti corteggia, metaforicamente, che ti fa venire voglia di farti trasportare dal sentimento, e invece no, e invece no, devi stare lì, non farti trasportare, stai fermo, stai ferma, non vuol dire rifiutare, vuol dire stai ferma in osservazione, perché anche l'oracolo della foresta ti dice, lascia che la natura diventi il tuo miglior professore, per cui lascia che la natura faccia il suo corso, che la gente faccia quello che vuole, che le energie vadano dove vogliono, tu mangia, riposati, fatti venire incontro dagli altri, dei responsabili, non sto scherzando, non esageriamo, però insomma, quello è il fondo della lettura, ecco, è un mese dedicato a riprenderti, stai a guardare che succede, stai a guardare che vogliono tutti quanti, si guarda ma non fare niente, allora, sagittario, sagittario è un mese di equilibrio bidinamico, cioè le cose vanno a posto da sole, mentre tu ti muovi, come quando Mary Poppies mette a posto le stanze, con un poco di zucchero la pillola va giù, quindi non prenderti sul serio, come fa lei quando pulisce la camera, perché altrimenti non gli viene voglia, e anche perché la vita è più grande di te, quindi osservala, perché ti può insegnare molto, se se lo pensassimo, che l'intero pianeta continua ad andare avanti, nonostante esista l'uomo, anzi, sebbene esista l'uomo, mi verrebbe da dirlo, pensate a che energia forte, che cosa ci può insegnare la terra, cioè che cosa ci può insegnare l'esistenza, che noi pensiamo sempre di saperne di più, quindi lasciamoci guidare, lasciamoci veramente guidare, da ciò che è più grande, è più forte, è più intelligente di noi, cioè quasi tutto il resto del cosmo, saggettari, diciamo ce la vedete, perché il saggettario tende ad essere un po' fisso, quando c'è un'idea, non è come l'ariete, non è come il leone, però il saggettario, che anche se ha questa energia un pochino più, leggermente chic, affascinante, diciamo, quindi meno, apparentemente meno aggressiva, come energia, il saggettario, però, per chi conosce il saggettario, lo sa benissimo, che quando ci hanno, ci stanno zitti, però fanno sempre il cazzo che vogliono, giustamente, perché sono convinti, sono molto convinti, e non t'ascoltano mai, cioè sono sempre convinti, però lo fanno con grazia, però vanno per la loro strada, invece qua dice, basta, non lo fare, perché c'è qualcuno che ne sa più di te, però, non sto parlando di persone, sto parlando di guardati intorno, per avere le risposte che vuoi, perché il mondo continua a risponderti, anche se non lo senti, l'amore non va bene, cioè non mi piace molto la carta che è uscita, quindi per qualcuno ci sarà un tradimento, per qualcuno si tratta che vi stanno illudendo, vi stanno intortando, oppure tu cercherai di fregare qualcuno, che ne so, ad ogni modo siamo lontani dall'amore, cioè l'energia, che sia tu che ricevi un tradimento, o che lo fai, che sia tu che seduci a tradimento, o che vieni seduto, siamo molto molto lontani dall'idea di amore, molto molto molto, questo mese, ti pare? L'amore non ha a che vedere col calcolo, mi raccomando, con i soldi, con gli scambi, con i, no, no, non ci siamo, questo mese non ci siamo, belle mia, c'è bisogno anche al lavoro, di prendersi una pausa, sì, forse sul lavoro, sarebbe meglio, non fare mettere troppo bocca agli altri, rispetto a ciò che fai, questo sì, e sarà un mese anche di, un po' vago, un po' di cambiamenti, cioè avrai sempre questa sensazione, di sapere quello che fai, sapere quello che dici, sapere quello che vuoi, ma in realtà è una forza convinzione, perché non sai proprio niente, secondo queste carte, e, sarai ingannato, o ingannata, soprattutto dalle tue emozioni, dalle tue sensazioni, cioè avrai la convinzione, soprattutto in ambito sentimentale, o relazionale, però in realtà, tutto ciò di cui sei convinto, convinta, non trova poi riscontro nella realtà, questo mese, potresti cominciare dei progetti, o potrebbe essere un mese, dove stai cercando di cominciare, a costruire un nuovo rapporto, però appunto si basa sull'energia, sì, forse stai seducendo, ti stai vendendo, in maniera diversa da quello che sei, cioè, purtroppo i primi mesi di un rapporto, tantissima gente, tutti i miei ex, si spacciano per quello che non sono, perché poi ti dicono, eh, ma perché all'inizio, come colloqui, no, quando, quando mettono tipo, inglese ottimo, e poi, zero, no, cioè, un po' si fa così nei rapporti, per rimorchiare, la gente si fa vedere meglio di quello che è, poi, io non riesco a capire la sta cosa, e nel caso ti stesse succedendo, cioè, potrebbe essere che cominci un nuovo rapporto, o cerchi di costruirlo più che altro, mi raccomando, non mistificare, ecco, non taroccare il curriculum, la prospettiva è anche buona, però devi essere su pezzo, devi guardarti intorno, devi vedere veramente che cosa è vero, che cosa no, e poi, e poi, l'oracolo della foresta ti dice, danza, autorizzati a prenderti del piacere ogni giorno, come il sole danza con la luna ogni notte, cioè, trai nelle tue giornate anche del godimento, semplice, puro e semplice, secondo me, quando dico semplice e puro, vuol dire che non devi per forza avere un tornaconto, perché il vero piacere non prevede un accumulo, non prevede un calcolo, non prevede, è semplicemente il vero piacere di essere, quindi, non ti prendere sul serio, te lo ripeto, cioè, rimani in movimento, qua c'è proprio l'energia, rimani in movimento, danza, danza con ciò che hai intorno, non fermarti a fare i conti, non fermarti sulle tue convinzioni, che non stai neanche vedendo tutto quello che sta succedendo, capisci? Bacio, buon aprile, oh, qua abbiamo Fire, avete presente la canzone di BeHive? Baby, negli occhi tuoi c'è sempre, Baby, un bel sorriso, ma perché? Te lo direi capricorno, ma perché questo sorrisone che mi metti su? Te, non me lo racconti giusto, sto mese, qua si rimorchi alla stragrande, quindi, abbiamo l'energia del fuoco, quindi della passione, mi raccoma, qua abbiamo le fiamme dell'inferno, di questo seduttore, che, cioè, siete lì che vi volete prendere tutto il prendibile del prendibile, qui qualcuno fa anche delle orge, secondo me, qua proprio, edonismo, sesso, feste, allegria, le carte ti dicono, vai piano, bello, o bella, cioè, state calmi, state calmi, non castigate chiunque, incontrate, cioè, non andate giù, come se non ci fosse un domani, comunque, esprimerai molto la tua sessualità, e, mi verrebbe da dirci una cosa, che trovo molto bella, e che ti auguro, di rimanere laddove senti che potrai stare per sempre, cioè, se questo mese trovi un posto dove senti che è il tuo posto, di rimanerci, se hai questa sensazione che lì ci puoi restare, cioè, se tra tutte queste avventure, tutta questa energia, tutta questa passione, trovi un posto dato a te, rallenta, fermati, non andare oltre, non perché ti stai divertendo, divertiti finché ciò di divertirsi, però se poi trovi casa, fermati, desideri una nuova vita, probabilmente un nuovo compagno, desideri vincere, se ciò che vuoi non si sta realizzando, ci devi lavorare di più, sul lavoro le cose finiranno, per qualcuno di voi finisce qualche contratto, per qualcuno scambio lavoro, se finisce qualcosa, non ti buttare giù, perché vuol dire che non era il posto di lavoro giusto, per te, vuol dire che andrei verso qualcosa di meglio, quindi abbi fede, qualcuno si fidanzerà comunque questo mese, e sarà una cosa lunga, sarà un rapporto, un rapporto di quelli importanti, lunghi, molti di voi invece proprio si danno la pazza gioia, più che fai, più che fai, la Debi Aiva, avrai cantato noi puffi, siamo così, c'è proprio un'energia, proprio di movimento, allora, l'oracolo della foresta dice, opportunità, spogliati come una felce, anche senza la luce del sole, cioè cosa vuol dire, vuol dire che avrai delle opportunità, però vuol dire che anche te le dovrai creare, cioè creati opportunità, e sfrutta le opportunità che ti derivano, perché questo mese è molto buono per la mossa, proprio la mossa in generale, per le chiusure, per i cambiamenti, per gli inizi, per gli incontri, per gioire dell'energia pura che ti sgorga da dentro, che te devo dire? Ciò ti ho già detto tutto, non c'è altro da aggiungere secondo me, quindi mi raccomando, divertiti anche per me, buon aprile, acquario, acquario, Allora, per quanto riguarda l'acquario, questa carta New Moon dice tutto, molto romantica, quindi ci ha promesso di amore questo mese, ti lancerai in una nuova relazione romantica, oppure riprenderai qualcosa che era stato messo da parte, adatta da destinarsi, cioè se avevi un progetto che era da un po' che avevi lì in testa e l'hai messo un po' accantonato, in realtà c'è la possibilità di concretizzarlo, sia sentimentalmente che lavorativamente, devi semplicemente impegnarti nel concretizzare questo mese, non hai più scuse, non hai più giustificazioni, devi mettere da parte i tuoi dubbi, e inseguire finalmente quei sogni che da per qualche motivo hai sempre tenuto lì, perché non ci credi abbastanza, perché pensi di non farci, o pensi che veramente non sia la strada per te, invece questo mese ti dice no, è la strada per te. in amore sarai teoricamente finalmente comincerai a fare i fatti e smetterai di farti le pugnetta, ecco, se diventare così, come direbbero a Zelig, ti esprimerai, cioè ti prenderai quello che vuoi, sarai imbattibile, non so perché imbattibile, adesso qua abbiamo il dio Marte, qua abbiamo l'Ariete, cioè avrai un'energia di Ariete in generale, cioè di una persona molto passionale, che c'è forte energia sessuale, forte energia, c'è una bella carica, perché questo mese dovresti lavorare un po' di più sulla tua autostima, e forse questo ti aprirà molte porte, anche dal punto di vista professionale, cioè proprio questa cosa, se tu avessi solo un po' più fiducia in te, avresti la possibilità di fare tutto questo mese, quindi considera bene la strada, anche lavorativamente, che vuoi intraprendere, e ciò che vuoi ottenere, perché se lavori lo avrai, mi verrebbe da dirti che alcuni di voi, alcuni acquari forse più giovani, sono un po' immaturi, sono un po' più che altro inesperti, è questo che evidentemente non aiuta la vostra autostima in questo momento, però c'è anche un lato di vantaggio in questo, perché avrete molta spontaneità dalla vostra, ci sarà freschezza, c'è proprio voglia, c'è proprio voglia di nuovo, voglia di, anche un po' di romanticismo, voglia di magia, eccomi veramente dire, proprio voglia di magia questo mese, quindi, quindi va bene, un po' di voi sono immaturi, però il lato buono è che siete istintivi, più spontanei, questa è una cosa buona, sicuramente ci sono degli approcci con persone, con cui vi sentirete di essere più voi stessi, più voi stessi, forse perché si alza l'autostima, e quando abbiamo più autostima siamo anche più sinceri, soltanto in mente chi ne ha poca di autostima, e poi abbiamo un carro che vuol dire grandi conquiste, quindi se dovete conquistare qualcuno è il momento giusto, una fase positiva, il carro spesso è anche sinonimo di riconciliazione, oltre che di inizi, di incontri e di viaggi, e soprattutto di tanta vita, ma che quello me lo manifesta un po' tutto qui, allora qui l'oracolo della foresta mi dice, ancoraggio, prenditi cura delle tue radici, ma fatevi più grandi che gli alberi, quindi sì, penso che sempre si riferisca alla questione dell'autostima, quindi riassumendo caro acquario, il tuo problema è un problema di autostima, evidentemente l'hai avuta bloccata per molto tempo, hai sentito che la vita era troppo più grande di te, ti sei sentito schiacciato, o comunque ti sei sentita anche piccola o immatura, credo che tu ti sia sentita anche molto sola, qualcuno mi correga qualche acquario, ho la percezione che avresti voluto una mano, avresti voluto che qualcuno ti tendesse una mano per aiutarti, perché qui abbiamo i funamboli che si aggrappano all'altra persona, per saltare più in alto, per attaccarsi, però comincio, se c'è il lavoro sull'autostima, io qua vedo che ingrana tutto, ingrana tutto, e lo dico con questo accoramento, perché sento proprio il bisogno da parte tua di magia, e quindi arriverà questo pizzico di magia, che ti potrebbe dare molta opportunità, soprattutto per i progetti e per i sogni che hai, quindi in bocca al lupo e buon aprile, pesci, pesciolini miei, allora pesciolini miei, che bella l'energia dell'oceano, come vi invidio, mi piace tantissimo, c'era una frase che quando ero piccola diceva sempre, sì, sempre come le onde del mare, com'è che diceva, lo saprete tutti, che anche quando sbattono contro lo scoglio, hanno sempre il coraggio di tornare indietro, e questa cosa mi piaceva tantissimo quando ero piccola, cioè proprio accendeva la mia fantasia, e quindi avete questa energia di flusso e riflusso, avanti e indietro, avanti e indietro, questo flusso soprattutto di emozioni, voi che come me, voi siete dei pesci o del cancro, però siamo segni di acqua, quindi segni che amano molto le emozioni, e amano molto i sentimenti, ovviamente non ossessionarti, vi raccomando, non drammatizzare, perché poi pesce tende a drammatizzare, sempre le tragedie greche, più che altro, sapete che cosa c'è? Non drammatizzate, ma non minimizzate, non passate da un estremo all'altro, con queste onde, fatevi trasportare, sapendo che cambierà la direzione molto spesso, quindi se stai male, non negare questo dolore soprattutto, e il mese è da viversi momento per momento, quindi quello che arriva, un po' alla volta, vedete dove vi porta, per quanto riguarda le relazioni, ci saranno dei momenti di compatibilità, con la persona con cui state, appunto, questo flusso e riflusso, uno andrete verso questa persona, a seconda delle circostanze, e vi allontanerete, ci saranno un po' di tira e molla, un po' di discussioni, ma vedrai che se guardi le cose da un altro punto di vista, ti accorgerai, che veramente, questa è la lavastoviglie, che veramente non è che tu sia nel torto, o nel torto l'altro, ma che a volte è così, cioè a volte lasciala fare, lasciala passare, insomma, non estremizzare, non ogni lite sarà una fine, non ogni riconciliazione, vorrei dire che quella persona è l'amore della tua vita, quindi vai secondo il momento, però sì, i sentimenti saranno un pallino del tuo cervello, secondo me questo mese, sì, ti fai trasportare dai sentimenti, per cui anche dal punto di vista del lavoro, qualcuno di voi potrebbe avere qualche inciucio al lavoro, o qualche corteggiatore, o qualche cosa di questo tipo, comunque sì, c'è tantissimo movimento, c'è tanto movimento, non ti far venire mal di mare, ci sono delle novità, ci sono delle nuove scoperte, delle nuove opportunità positive, dei cambiamenti, sei pronta, o sei pronto per grandi cose, quindi avrai proprio uno spirito di iniziativa, da conquistatrice o da conquistatore, l'unica cosa che ti dico, ti ripeto, c'è tutto molto bello, mi raccomando, ripeto, non drammatizzare e non minimizzare, non esagerare, non prendere decisione avventate, vai avanti, con questa voglia che hai di andare avanti, con questa voglia di andare verso il nuovo, però non ti fare, non ti fare trasportare nel senso negativo del termine, cioè non diventare uno tsunami, ecco, poi, l'oracola della foresta è quello della gioia, quindi semina grani di gioia, come un fiore selvaggio, e senza alcun dubbio, festeggerai il risultato, quindi l'importante è che manterrai un atteggiamento positivo, ed equilibrato, e che ti lascerai trasportare dalle tue emozioni, e trasportare il fatto che ti trasporti nelle emozioni, vuol dire che anche non ti fisserai nel rimanere ferma, o fermo su uno stato d'animo negativo, o su qualche cosa che non va, andrai oltre, saprai andare oltre, saprai tornare indietro quando hai sbagliato a chiedere scusa, questo dinamismo va preso nel senso migliore del termine, non in quello peggiore, guardate sempre la parte di luce, mi raccomando, delle situazioni, per cui, senza alcun dubbio, sarà un mese ricco di mossa, un po' come il cancro, probabilmente, allora questi, non mi ricordo qual era l'altro, allora, pesci cancro e scorpione, non mi ricordo più niente, ah no, lo scorpione deve stare fermo a guarire, niente, quindi siamo noi ragazzi, dei pesci e del cancro, che è questo club, dei sentimenti, impetuosi, impetuosi, però per te ci saranno novità, novità buone, novità gioiose, quindi allegria, allegria, gioia, e goditi, goditi il viaggio, godetevi tutto il viaggio, questo aprile 2019, un bacio, e buonanotte.